ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì cosa succede il martedì ovvio succede che esce un nuovo video delle make up angels quindi un video che riguarda me fabiana elisabetta ogni martedì vi proponiamo una cosa diversa e come ogni martedì abbiamo deciso di fare un video molto molto particolare quindi per questa volta abbiamo deciso di far parlare le nostre labbra e quindi vi voglio far vedere cinque rossetti che adoro in assoluto e che sono i miei preferiti in assoluto e più uno che diciamo è un jolly allora ovviamente appena finite di vedere il mio video perché dovete vedere prima il mio video andate poi a vedere il video di fabiana ed elisabetta che ringrazio tantissimo perché veramente mi piace tantissimo collaborare con loro e ci troviamo bene siamo tutte e due nella stessa linea quindi tutte e due tutte e tre nella stessa linea quindi siamo sempre d'accordo su quello che ci piace fare e per questa settimana quindi abbiamo deciso di parlare di labbra il primo che vi faccio vedere già lo indosso questo rossetto mi piace tantissimo sto parlando del rossetto di nabla questo è rock nude ve lo scriverò qui in sovraimpressione ed è questo bellissimo rossetto è un color nude che vira sul marroncino mi piace tantissimo perché è morbido ma veramente morbido e la cosa che mi piace di lui è il contrasto con la matita più scura io ho messo per abbinare a questo rossetto metto sempre la 206 perché mi piace fare quel contrasto leggermente più scuro nella parte diciamo del contorno labbra e poi bello questo rossetto all'interno io lo stra adoro mi ci trovo benissimo infatti è molto molto consumato e questo è stato uno dei primi rossetti acquistati per quanto riguarda la nabla è davvero ottimo veramente ottimo bello cremoso ovviamente se parlate lo trovate anche sui denti però vi posso assicurare che mi piace tantissimo mi sono trovata benissimo con questo è davvero davvero ottimo per quanto riguarda gli altri ve li faccio vedere nel bullet e poi mano a mano vedrete o lo spezzettino lo spezzettino sì o lo il pezzettino di video devo andare a mangiare per questo vedrete il pezzettino di video oppure la fotografia che lo indosso il secondo rossetto l'ho messo l'ho messo tutti qua il secondo rossetto che vi faccio vedere è un altro nude ma questo nude molto più secco al confronto di questo di nabla che è molto molto cremoso sto parlando del rossetto di mulac e ovviamente se avete visto i miei tutorial anche degli anni precedenti nel senso di l'anno scorso questo è il rossetto che ho utilizzato di più in assoluto perché è sempre un nude ma un nude molto molto diverso questo è qui è un rossetto bellissimo questo al confronto di rock e nude di nabla è molto più malva all'interno io adoro questi colori per quanto riguarda la mia carnagione perché mi piace assolutamente tantissimo questo su di me mi piace mi piace mi piace è un colore che adoro e che cerco tutte le volte in altri rossetti in altri brand in altre forme questo è molto più secca al confronto di rock e nude come vi stavo dicendo perché ha diciamo ha una formula simile a quelli della mac io mi sono trovata benissimo sono stata anche a cena fuori con questo con questo tipo di rossetto ed è rimasto ovviamente se mangiate che vi strofinate le labbra e tutto si toglie però veramente queen è il rossetto più bello per quanto riguarda i rossetti della mulac io lo adoro in assoluto andiamo avanti e sbirciando qua dentro trovo un altro rossetto nude e questo è per quanto riguarda la maybelline questi rossettini così e io vi sto parlando del numero 10 nocturn rose nocturnal rose ed è un powder matte ultra matte ed è un rossetto bellissimo questo è il colore e al confronto diciamo degli altri rossetti è leggermente più scuro è più che ha diciamo più rosso all'interno ed è questo colore vedete è una scala di colori ed è bellissimo 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 questo lo mettete con la matita anche questa la 206 ed è un rossetto strepitoso non ha la stessa morbidezza di nabla ma non è molto secco come quello di mulac è una via di mezzo mi trovo benissimo lo abbino a tantissimi makeup e lo adoro lo adoro anche tipo l'avrei messo anche in questo makeup mi piacerebbe proprio mi piace tantissimo l'effetto che ha anche mettendolo su questo makeup abbastanza particolare ed è un bellissimo bellissimo colore molto molto bello poi questo è il terzo andiamo sul quarto è il quarto è un rossetto della mac in edizione limitata che a me è piaciuto tantissimo e che ho utilizzato poco ma perché ultimamente mi trovo meglio con quelli nude ma questo quando voglio qualcosa di particolare oppure non voglio osare negli occhi ma oso sulle labbra io metto questo rossettino qua che è questo rossettino della mac che non dirò il nome perché ve lo scriverò qui perché non lo so nemmeno dire frambau è qualcosa è un lipstick è un matte ovviamente ed è questa bellezza qui allora è molto bello ovviamente è un matte ed è un color ciliegia bellissimo ed è un ciliegia favoloso mi piace mi piace come sta sulle labbra mi piace il colore che mi dà sul viso perché mi ravvive il colore io veramente quando lo metto questo lo utilizzo più in primavera estate sinceramente è bello mi piace come mi sta addosso quindi mi piace tantissimo ovviamente non è un colore da abbinare a tutti i makeup ad esempio in quello che ho fatto oggi non l'avrei mai messo perché non ci sta capita spesso che mi trovo in difficoltà nell'abbinarlo però è un colore che a me piace tantissimo veramente molto molto bello ed è un colore spettacolare è un ciliegia bellissimo veramente molto molto bello come durata è ottimo perché io con quelli della mac mi trovo benissimo infatti la maggior parte dei miei rossetti sono tutti mac io avrei messo in questa lista soltanto e rossetti della mac ma ovviamente devo anche ampliare visto che ne ho tantissime di vari brand anche per quanto riguarda i rossetti che ci sono l'ultimo entrato a casa mia è un rossetto molto molto bello che ultimamente sto utilizzando quasi sempre in tutti i miei tutorial sto cercando di non utilizzarlo sempre ma il colore che mi viene più il rossetto il colore diciamo che riesco ad abbinarlo in tutti i make up è questo e sto parlando il rossetto di Uda Beauty è bellissimo io l'ho presi online non sono riuscita a prendere al negozio perché non c'erano qui a Catania non c'erano aspetterò che usciremo tutti per riconquistare la nostra vita la nostra routine normale quindi aspetterò non farò ordine online e vi prego anzi veramente vi scongiuro non fate ordine online perché mettete a rischio anche i i corrieri i postini e tutti quelli che vi portano le cose a casa per adesso non facciamo ne abbiamo tante cose a casa possiamo anche fare a meno di queste diciamo sciocchezze perché per noi sono delle sciocchezze ma loro rischiano veramente la vita e quindi spero che mettetevi i soldi di lato mettiamoci tutti i soldi di lato appena finisce tutta questa situazione bruttissima che stiamo passando e poi ci faremo delle belle scorpacciate di shopping quindi poi vedrete dei shopping pazzeschi qui su youtube per adesso lasciamo lasciamoli andare nelle proprie case con le proprie famiglie che è la cosa più giusta da fare sinceramente vi volevo dire questo perché molto spesso anche sotto i miei video di adesso mi state scrivendo io non sto uscendo di casa chi sta uscendo di casa io ha quasi 20 giorni no forse di più che non sto uscendo di casa no di più sono due settimane passa comunque mettiamolo poco che è quasi un mese perché sono molto fifona quindi quando dicono una cosa io la faccio subito perché ho paura e ho paura anche perché io l'unico posto dove andavo erano i miei genitori vi dico questo perché i miei video quelli che io sto facendo in questo periodo cioè quelli che io sto mettendo online in questo periodo sono video vecchi sono video fatti in precedenza non sono video di adesso perché dice come facciamo a capirlo lo fate benissimo a capirlo tramite le mie unghie perché le mie sono delle ricostruzioni quindi automaticamente non è che dice c'ho l'estetista a casa l'estetista a casa sua e le mie sopracciglia non sono d'accordo di questo perché vi dico questo perché noterete che in qualsiasi video che io vi propongo gli unici che sono veritieri di questo periodo sono quelli che faccio il martedì con le makeups angels perché sono quelli che noi facciamo il giorno prima o due giorni prima o la mattina prima invece tutti i video che voi vedete che sono stati registrati lo noterete anche tramite le unghie che sono molto ma molto diverse da quelli che che io ho adesso quindi è ovvio che sono stati registrati i capelli sono più corti sono diversi poi sono fatti con la piastra perché veniva la mia amica e mi faceva i capelli io ovviamente non lei non può venire automaticamente non sto facendo più boccoli non sto facendo più niente sto facendo riposare anche i capelli devo tagliare la frangetta ma non posso tagliarla perché la mia parrucchiera è chiusa siamo tutti chiusi a chi ha chiusi a casa perché è lì dove dobbiamo stare perché è per il nostro bene quindi per adesso non acquistate mettetevi i soldi di lato aspettiamo che finisce tutto questo macello e poi spendiamoli facciamo riattivare l'economia quindi facciamo poi riprendere tutto quello che abbiamo messo da parte e tutto quello che purtroppo abbiamo bloccato poi ci sarà il tempo ce l'avremo il tempo si finirà tutta questa cosa abbiate fiducia e abbiate un po di pazienza tanto state a casa il tempo è brutto avete la visione avete il cellulare abbiamo tutto cioè noi abbiamo tutto e avete sempre voglia di chiedere in più qualcosa in più non dovete non dovete assolutamente dopo questa romanzina che vi ho fatto volevo dirvi che mi piace tantissimo no veramente io lo dico per strammatizzare perché vedo molte cose cioè credetemi non sono queste le cose si ci fanno passare il tempo e tutto però noi ce l'abbiamo il tempo avete fiducia noi abbiamo fiducia quindi piano piano riusciremo a uscire da questo momento buio diciamo così allora l'ultimo rossetto quindi il quinto abbiamo detto giusto 1 2 3 4 5 si so contare il quinto rossetto che vi faccio vedere quello che sto utilizzando veramente in quasi tutti i makeup che realizzo ed è stato l'ultimo diciamo di rossetto che ho acquistato in base a quelli che vi sto facendo vedere ed è un rossetto di udia beauty come vi ho detto ed è questo bellissimo colore e si chiama payday è molto bello veramente molto molto bello riprende i colori sopra perché è un malva scuro io vedo sempre del malva all'interno dei rossetti assomiglia molto a quello di maybelline ma è diverso diverso perché quello di maybelline è molto più cremoso questo è molto più asciutto come rossetto però mi piace molto di più questo scusate ma stai facendo ancora i video si michela sto facendo ancora i video mi sta arrivando i messaggi su sul telefonino ok va bene e niente quindi questo è un leggermente diverso perché quello di maybelline ha un effetto più rosso all'interno questo è molto più malva mi piace tantissimo lo abbino a tanti look specialmente nell'ultimo periodo è il rossetto più utilizzato veramente il rossetto più utilizzato perché in qualsiasi look li metto quello è una cosa pazzesca prima era rock nude di nabla invece adesso è questo mi viene di leggere i messaggi questo è il rossetto veramente che sto utilizzando sempre lo metto in tutti i look per qualsiasi cosa metto questo io ad esempio l'ho utilizzato l'ultima volta che sono stata a casa di mia mamma a prendere il caffè ero truccata perché non mi ricordo che cosa abbiamo fatto ero truccata forse ho fatto un video ero truccata sono andata a casa mia mamma ho preso il caffè tranquillamente abbiamo passato il tempo abbiamo mangiato cioè io ho mangiato anche le noccioline tutto il rossetto lì era e lì è rimasto quindi per quanto riguarda la durata mi è piaciuto ovviamente se mangiate cose oleose o altre cose si toglierà sicuramente ma io veramente ve lo consiglio altamente payday è un colore bellissimo fantastico ed è stupendo adesso vi faccio vedere il jolly il jolly il jolly c'è Betty che gli sta dicendo tocca a Stefi forse stanno messaggiando si le make up angels stanno messaggiando non so come farvelo vedere vedete make up angels tocca a Stefi si ho capito tocca a Stefi tocca a Stefi vabbè scusate allora adesso vi faccio vedere il rossetto jolly allora questo è un rossetto che per quanto mi riguarda io ci sono molto molto affezionata lo adoro è stato uno è stato uno dei primi rossetti acquistati per quanto riguarda la MAC quindi chi mi conosce sa di cosa sto parlando è un rossetto che io adoro in tutta la mia sfilza di rossetti per quanto riguarda i miei bussolotti per quanto riguarda la MAC è il rossetto che io adoro in assoluto è il rossetto più utilizzato in assoluto c'è stato un periodo dove lo mettevo tipo come come si dice come il prezzemolo lo mettevo dappertutto mettevo quello e uscivo era un rossetto che io ho amato alla follia ed è il rossetto che io si può dire il primo rossetto della MAC che io ho acquistato quindi pensate a che rossetto potrebbe essere è il mio preferito lo metto in qualsiasi tipo quando fanno dei tag sapete tipo il rossetto tuo preferito metto sempre questo avete capito che MAC perché l'avevo appena detto quando mia sorella mi diceva ma Stefania diceva è bellissimo questo rossetto è questo cercavano del dupe non mi interessava io volevo questo l'ho messo in tantissime occasioni l'ho messo tipo quando abbiamo fatto le fiere d'ottobre l'ho messo quando c'è stato il mio compleanno l'ho messo in tantissime 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 occasioni che cos'è è il colore più bello per quanto riguarda la MAC per quanto riguarda me ed è il mio preferito il mio jolly è un retromatte e già lì avete capito ve lo presento vi presento Fof Flat Hot Fabulous questo è il mio prefe prefe ed è stupendo stupendo tutte le volte che lo indossavo qualsiasi persona mi diceva Stefania ti sta benissimo ma che cos'è e io gli dicevo è Fof Fof che cos'è Fof ed è questo Flat Hot Fabulous è stupendo è il rossetto più bello che io posseggo mi piace tantissimo mi piace come mi sta sulle labbra mi piace cioè io se devo allora non mi dite di salvare il rossetto di fare il tag se ti viene qualcuno perché mi innervosisco io amo tutte le cose che posseggo perché le ho comprate con i miei soldi quindi mi sono state anche regalate e tutto però sono delle cose che io tengo veramente tantissimo quindi non so scegliere quale di queste eccetera eccetera però questo è il mio preferito se voi mi dite qual è il tuo prefiprefi mi viene Fabiano hai capito chi? salve comunque se qualcuno mi chiede qual è il mio preferito è Fof io adoro stra adoro Fof il rossetto che mi piace di più in assoluto Fof qualsiasi Fof non c'è altro rossetto all'infuori di Fof quindi per me Flat Hot Fabulous di MAC è il miglior rossetto in assoluto mi piace come mi sta sulle labbra non mi interessa se mi fa vedere certe volte le pellicine tanto che faccio lo scrub prima che lo indosso mi piace da impazzire ed è bellissimo allora questi sono i 5 rossetti più un jolly per quanto riguarda la mia diciamo la mia playlist per quanto riguarda i rossetti non vedo l'ora di vedere cosa hanno scelto le altre due Makeup Angels quindi andate subito appena chiudete il mio video andate subito a vedere il loro video e ditemi ovviamente nei commenti quale di questi 5 più 1 ovviamente vi piace di più dei rossetti questi sono i rossetti sono bellissimi veramente molto molto belli ditemi qual è il vostro preferito scrivetelo ovviamente giù nei commenti io che dirvi ringrazio le mie due Angels quindi ringrazio sia Fabiana che Elisabetta andiamo subito a vedere cosa hanno scelto loro e che dirvi ragazzi io vi mando un grossissimo bacio vi raccomando finirà tutto dobbiamo solo aspettare non dovete fare altro che aspettare vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao